Noi siamo riusciti, non lavorando e scioperando, a far rinviare la conciliazione, la firma delle conciliazioni che sono state rinviate la settimana prossima. Erano previste per settembre e già erano state rinviate a ottobre. Però è pur vero che il clima in azienda adesso è un clima che è cambiato perché sempre di più i manager, i dipendenti, Almaviva, ci fanno presenti che se non firmiamo queste conciliazioni possiamo non presentarci più al lavoro perché subordinano la firma della conciliazione alla firma del nuovo contratto. Tu lavori in Alicos o Cosmed? Alicos. Sai che c'è un problema di sede con Alicos? Io sono della sede di Via Cordova che è la sede che già da un anno è scaduto il contratto e è stato rinnovato e abbiamo un problema di sede che continua a non essere affrontato, che è rimasto tale e che probabilmente Almaviva non vuole affrontare, cioè a convenienza non affrontare per poi poter spostare le commesse. Inoltre va sottolineato come se noi, perché l'azienda ci pone di firmare una conciliazione che non è provvista dall'accordo sindacale, perché l'accordo sindacale prevede una transazione che è diverso, perché ci chiede di firmare una conciliazione se non siamo in vertenza con l'azienda? Se l'azienda non ha niente da nascondere del pregresso, del suo passato, di come ci ha fatto lavorare, perché ci chiede di conciliare con lei e di non fare l'emertenza per il passato?